stai registrando? si ok allora arma 3 allora roby premi z poi mappa m allora io voglio fare uno spawn adesso qua qua è quello che ho fatto ora noi siamo qua sotto fuel qui c'è il fuoristrada che ho fatto spawnare e io ci metto vado in moduli a destra dove c'è la schermata crea moduli vado in rigenerazione e qui puoi mettere tu quello che vuoi rigenerare o fuori nascere i civili noi ci interessa i blue four quindi veicoli giocatori blue four prendi appena te lo da il mouse lo metti vicino al punto che tu vuoi il respawn lo piazzi e lui ti dice nuovo respawn e ti dice le coordinate ti fa vedere che hai tu sistemato un nuovo respawn qualche cosa fai esci chiudi quindi con z il respawn ancora non te lo io con questo l'ho fatto quindi build veicolo piazzi la tenda build se guardi in mappa ti da mobile respawn 11 40 30 ok e quantità il coso quindi z mappa scegli un bundo adesso ne faccio un altro per farti vedere lo facciamo qua dietro nell'altra cosa quindi rigenerazione giocatori blue four e lo mettiamo il respawn qua dentro dallo giocatori lo mettiamo qua dentro quindi ho fatto il ho creato il punto di rigenerazione chiudo la mappa si chiudo la mappa si chiudo la z mi mi teleporto a in quel punto con l'admin tool premendo alt è il pulsante sinistro del mouse mi teleporto sono in quel punto admin menu tenda quindi scelgo la tenda 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 a cupola, build, la piazzo qua, guarda e mappa, mobile respawn 94094041 ok allora poi esco e continuo a giocare. Allora aspetta che adesso chiudo chiudo una nave